Dopo essere scesi in piazza al lunedì sera davanti al comune per un sit-in contro l'ipotesi della nuova ZTL progettata dalla città di Torino, gli organizzatori della mobilitazione sembra che si siano fermati con la protesta, per ora. La manifestazione dell'altro giorno avrebbe portato poche persone sotto Palazzo Civico. In vista potrebbe esserci la strada del referendum comunale per tentare di cancellare la delibera pentastellata. Per chi ha manifestato, la nuova ZTL non aiuterà a migliorare l'aria e in più provocherà disagio a chi lavora nella zona. Il sindaco Chiara Appendino ha però detto che loro porteranno termine il progetto perché la loro priorità è l'ambiente. Le linee guida della nuova zona traffico limitato prevedono un'estensione dell'orario fino alle 19.30 e un ticket d'ingresso con due ore di sosta incluse. Ascom e Confesarcenti, invece, data la disponibilità del sindaco a dialogare, potrebbero sedersi a un tavolo con la città. Sentiamo le parole di Maria Luisa Coppa, presidente di Ascom Torino, sulla situazione. Guardi, noi abbiamo cercato veramente per mesi e mesi la collaborazione con questa amministrazione perché certamente un provvedimento che si cala in modo così bulgaro sul commercio ci sembra veramente impossibile. Abbiamo fatto le nostre proposte all'assessore La Pietra e naturalmente non ha mosso di un millimetro quello che era la sua decisione, le sue intenzioni. Io credo comunque e siamo assolutamente disponibili a ritornare a un tavolo per cercare di mitigare il provvedimento perché ritengo che sia nell'interesse di tutti. Non posso immaginare un'amministrazione che prende delle decisioni sulle spalle di imprese senza voler ascoltare le loro ragioni. Cosa farete quindi? Quali saranno i vostri prossimi passi? Credo che ci debba aprire un tavolo con l'amministrazione. Il sindaco ha detto che è disponibile ad incontrarci quindi ci aspettiamo una convocazione. Il lunedì c'è stato parecchio umore davanti al comune. Sì, i commercianti sono arrabbiati. Poi i commercianti non sono i primi a scendere in piazza ma si portano anche all'interno delle loro imprese la preoccupazione, il rammarico, la rabbia. Sappiamo di interpretare una forte preoccupazione che non è soltanto dei commercianti ma è anche degli studi professionali e anche di alcuni cittadini che si vedono comunque ridotti nella loro libertà. E quindi è una preoccupazione che c'è. Io credo che non possa essere presa senza un minimo di coordinamento e un minimo di ragionamento con le rappresentanze dell'economia.